Ho via gli L7, voglio andare a fare l'aperitivo, che si fa? Si allassa il popolo, fanno un negroni, ti fanno un negroni, buonissimo, vediamo questo ragazzo con le lavastoviglie a mano, sta risciacquando questi bicchieri nella solita acqua, lo sputo, i spuvacchini, tutto dentro, tutto a norma, c'è stato il sindaco, gli ha detto bravi a settembre vi voglio alla festa dell'unità, ma vediamo con quale classe questo sta mettendo il Coca-Cola, allora che fa? Gli ha preso diciamo il ghiaccio, vedete ragazzi, lui gli ha fatto la coprazie, gli fa una sega che gli ripartano bicchieri, gli ripignano il volo, questo è uno che sa, poi guarda, lui gli mette le noccioline, gli mette tutti gli stuzzini, gli ha detto, gli ha un bel aperitivo, latte, famoso latte della Maremma, questo l'ha preso con Maremma, gli ha il latte Maremmano, di quello mono fresco, proprio latte di quello contadino, vedete? Ah, che cosa, che aperitivo, che bontà, questo gli fa buono per andare al gabinetto, uno per dire, gli ha un po', diciamo, sai, di stitichezza, si fa un bel rone di questo, di questo negroni sbagliato, diciamo, ma parecchio sbagliato, e dopo vi trova, corre al gabinetto, gli fa buono, fa buono per tanto affare, vedete? Ah, coi guantini gialli, proprio cogli di classici, lì, alto ghiaccio, e lui sa ragazzi, lui sa, questo sa cosa, gli fanno una sega, vedete, come gli mescolano, vedi? Guarda come gli mescolano, guarda che classico, gli resta di sinistro, guarda che classico, che classico, guarda che classico. Grazie Grazie Grazie